Ho avuto modo di leggere la nuova gazzetta di Reggio e devo dire che ha un nuovo taglio, più giovanile, più moderno, più al passo con i tempi, ci sono più immagini, molto grandi e visto che questo mondo si sta evolvendo verso i social, verso tante immagini, questa cosa fa molto piacere e lo leggerò sicuramente.